Terzo quadro Quindi c'è un fatto che ha segnato il destino del campo avverso a Dio, la prima battaglia finale, il venerdì santo in particolare, la Pasqua di Gesù, che ha rattrappito le ali del drago, togliendogli i suoi aiutanti principali, togliendo potere e credibilità ai suoi alleati principali, c'è l'annuncio del regno millenario di Cristo, cioè del fatto che lui resta presente e operativo nella storia, non è estraneo, non è indifferente, E' presente e fa e agisce e funziona, diciamo noi. Terza tappa, terzo quadro, la seconda battaglia finale, che segna questa volta la sconfitta del drago, di Satana. Quando saranno trascorsi mille anni, quando quindi la storia sarà arrivata al suo compimento, Satana sarà liberato dalla sua prigione, come era stato detto, e andrà a convincere Gog e Magog. Gog e Magog sono due popoli che nel libro di Ezechiele personificano i nemici di Dio. Quindi non ha più il mostro e la bestia a suo servizio, però qualcuno che lo sostituisce lo trova. E sono questi due popoli, Gog e Magog, siamo sempre nell'immaginario. E tutti i popoli del mondo, numerosi come la sabbia del mare, li radunerà per la guerra. Notiamo in tutta l'Apocalisse con uomini, si intendono sempre quei gruppi umani, Quelle persone umane, che concretamente di fatto nella loro vita rifiutano di prendere sul serio il messaggio di Cristo. Oppure non si curano di conoscerlo di più se ne hanno sentito parlare. O magari senza loro colpo, non avendono mai sentito parlare, Seguono comunque, anche contro la loro coscienza, in certi momenti, La logica dell'oppressione, della violenza, dell'egoismo, dell'orgoglio, dell'avidità, del disprezzo dell'altro. Quindi Satana si rifà un nuovo esercito. Eccoli, dice, dilagano su tutta la terra e assedono il campo di quelli che appartengono al Signore, La città che egli ama, la Gerusalemme, Gerusalemme nuova che apparirà presto, Dove c'è la sposa dell'agnello, di cui si è già parlato. Sembrano vincere di nuovo. Ma giù dal cielo venne un fuoco che li divorò. Ho notato, e stavolta non hanno neanche il tempo di radunarsi, di organizzarsi. E' vero che per due volte si è già dimostrato inutile. Si è dimostrato inutile durante la grande tribolazione. Vi ricordate quando il drago cerca di eliminare il bambino che la donna, vestita di sole, che è incinta, sta per partorire, non sta per mettere al mondo, non ci riesce, e viene scagliato sulla terra. Era lì tutto pronto per fare la sua battaglia, ma la battaglia non c'è stata. E' stato scagliato sulla terra. L'abbiamo visto nel capitolo 19, poco fa, mostro e bestie che radunano i loro eserciti per fronteggiare l'esercito del cavaliere bianco sul cavallo bianco, ma vengono sconfitti senza combattere, senza che ci sia battaglia. Qui addirittura manco si sono radunati. Sono lì, sembrano dilagare, sembrano i padroni del mondo, sembrano una forza inarrestabile, ma di colpo. Un fuoco dal cielo li divora. Cosa sta a dire questo fuoco dal cielo che arriva senza preavviso? Quello che dice Gesù, quando verrà il figlio dell'uomo? Sarà come il lampo che degnizza da oriente a occidente. Improvviso, non preparato. E in un altro punto del Vangelo dice, quel giorno la gente continuerà a sposare, a comprare, a vendere, a costruirsi case, a fare tutto quello che fa tutti i giorni. E all'improvviso tutto quello che sta facendo perderà di senso. Perché? Perché loro saranno chiamati davanti a un qualcuno, che è lui, il quale dirà la parola definitiva, la parola definitiva sulla storia dell'uomo. Il giudizio finale, la sua seconda venuta, la parusia, la fine del mondo, diciamo noi. Cioè, noi diciamo la fine del mondo. Lui dice la sua seconda venuta, che è un nuovo inizio. Ceri nuovi e terre nuove. Se ne parlerà tra poco. Comunque quel giorno, il male viene divorato, distrutto. Il diavolo che li ingannava fu gettato nel lago di Fuoco e di Zolfo, dove c'erano già il mostro e il falso profeta. Si erano opposti a Dio nella speranza, nella certezza di poter così garantire a se stessi una durata, una vita vera, potente, garantita, stabile, si trovano nella disperazione più totale. E per sempre. E senza più possibilità di uscire. Infatti dice, lì saranno tormentati giorno e notte per sempre. Credevano di essere i padroni di tutti i vincitori per sempre. Sono gli sconfitti per sempre. Non c'è futuro per loro. Solo disperazione. Chi fa il male si fa davvero male. Così si conclude il terzo quadro del giudizio finale di Dio. di Dio. Sì. 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 Sì.